Secondo me sì, siamo molto carichi e si può fare. Ma Stano sicuramente la Juve non vincerà lo scudetto, il Milan ho grandi speranze e speriamo vada bene. Penso Menesse. Anche a me Menesse. Io sì. Io non lo so perché considerando il 4-3 del Milan, la punta centrale presso Menesse e quando arriverà Torres dovranno fare una partita, sia una partita o no, penso almeno. Un Forza Milan per te Milano? Forza Milan! Ciao, grazie. Forza Honda! Grazie. Beh, da tifosi dobbiamo dire sì, però la Juve è una grande squadra, ma abbiamo a favore il campo e veniamo anche da due grandi vittorie, quindi siamo fiduciosi di questo Milan che già si vede targato in Zaghi. Mi dicono? Sì, sono il presidente del Milan Club di Chiedi, provincia di Abruzzo, siamo circa 200 tesserati e ci facciamo spesso e volentieri 700 km per venire qui allo stadio. Sì, sia in casa che in trasferta, siamo sempre vicini alla squadra. Un coro a un Forza Milan per te Milano. Sì, la Juve per tre anni è stata più superiore di tutti, noi crediamo nella forza del Milan e il Milan è sempre il Milan. Grande Pippo che ci ha dato questa forza. Come si sa, lo stadio è tutto esaurito. Grazie a Pippo, grazie a Milan. Il Milan penso che ce la farà. Quindi in Zaghi il valore aggiunto? In Zaghi è il valore aggiunto, sì. Un Forza Milan per Telemilano? Forza Milan! Grazie, ciao!